E' venuto a trovarci negli studi di Cilento Channel il consigliere d'opposizione Gisella Botticchio per discutere della problematica che stanno vivendo i ragazzi del liceo Alfonso Gatto di Agropoli per quanto riguarda i riscaldamenti. Ogni anno si ripresenta questa situazione, il dirigente scolastico lo abbiamo contattato telefonicamente, si è impegnato per risolvere immediatamente la problematica, tant'è che questa mattina si è regata alla provincia di Salerno per discutere dell'annoso problema proprio con i funzionari. Lei ieri è andata presso l'istituto scolastico, come è andata, che cosa è successo? Buongiorno a tutti i cittadini e buon anno a tutti. Allora, ieri ho incontrato dei ragazzi per strada e mi hanno detto consigliera Botticchio ci aiuti, noi abbiamo, è sempre la solita storia di ogni anno, abbiamo freddo. Quindi a me sentire, ragazzi di Agropoli sono figli miei, vado, mi rego all'Alfonso Gatto, entro nell'atrio, trovo una collaboratrice scolastica, chiedo subito della dirigente, attento qualche minuto, la dirigente mi viene incontro nell'atrio, sta molto attenta a non farmi entrare in segreteria, magari io volevo essere ricevuta, scambiare, cioè la parte politica deve, perché la mia parte politica, forse la dirigente confonde la politica, la mia parte politica è quella di apportare, di fare da supporto alla scuola, a tutti gli enti che funzionano a beneficio dei cittadini. Però lei è stata molto attenta, molto sulle sue, molto sulle difensive, non sono entrata negli uffici. Dato che c'è un precedente, questo lo devo dire, l'anno scorso io sono andata, perché di nuovo i ragazzi stavano al freddo, perché ogni anno si ripete. Poi ogni anno uno parla, vuole fare, io ho parlato con questo, però l'anno prossimo sarà la stessa cosa, perché quell'impianto di quella scuola non è sufficiente a riscaldare tutta la struttura, perché la struttura è enorme e l'impianto forse è fatto per appartamentini, non lo so chi lo ha fatto. Quindi c'è un problema proprio di forma, di base. Però come mai la dirigente non mi ha ricevuto nel suo ufficio? Io l'anno scorso, quando sono andata, la dirigente non c'era, c'era un altro preside, un altro dirigente, e feci notare che c'erano gli impianti, i climatizzatori, cioè loro hanno l'impianto climatizzato. Quindi al freddo stanno i ragazzi e i docenti. Questo è la differenza. Quindi loro hanno gli impianti climatizzati e le scuole no. Risposta l'anno scorso mi hanno dato, non mi ricordo chi, dice che la provincia non ha i soldi a sufficienza per predisporre gli impianti climatizzati per tutta la struttura e quindi quel poco hanno provveduto a loro. Quindi se parliamo di umanità, il mio pensiero, perché l'articolo 21 mi consente della Costituzione è esprimere il mio pensiero. Io non vedo tutta questa preoccupazione da parte dei dirigenti scolastici. Forse vabbè, ora devono farla parte, vado a Salerno, vado qua, vado là. Ma il consigliere della gente, il consigliere che fa politica per difendere i diritti veramente dei ragazzi, non è stato ricevuto. Non può essere da supporto a chi lavora veramente. Consigliere, scusi se la interrompo. Lei ha provato a mettersi in contatto con la provincia e magari spiegare proprio agli organi preposti, che sono proprio coloro che gestiscono poi la rete scolastica degli istituti superiori. Insomma, ha cercato di esporre il problema, l'annoso problema che poi ogni anno appunto si verifica all'interno, soprattutto del liceo Alfonso Gatto. No, io non ho fatto questo. Ancora non l'ho fatto, ma sicuramente nei prossimi giorni, se non si risolverà e non avrò risporto, spero che la dirigente non mi ospiti nell'atrio e mi ospiti seduti comodamente. Anche se c'è caldo, può stare tranquilla che io non mi scandalizzo perché ospitarmi nella sua, diciamo, nella presidenza, nel suo ufficio non c'è nulla di male e parlare, interloquire per risolvere questi problemi. Quindi è normale che io andrò di nuovo all'Alfonso Gatto. Mi spetta.